Si facevano portare da un taxi sul luogo prescelto, facevano la rapina e poi risalivano sul mezzo e si allontanavano con il tassista del tutto inconsapevole di quello che stava accadendo. E' quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Firenze-Oltrarno che hanno eseguito tre misure cautelari a carico di tre persone, ritenute responsabili della rapina commessa lo scorso 2 agosto all'ufficio postale di Bagnoarripoli. Si tratta di un albanese di 30 anni e due italiani di 46 e 42. Due erano già rinchiusi nel penitenziario di Bologna, uno è ai domiciliari sempre a Bologna. I militari sospettano che oltre al colpo di Bagnoarripoli tre abbiano fatto anche un'altra rapina il 29 luglio a Impruneta nel comune confinante. La banda hanno ricostruito carabinieri, durante i colpi manteneva calma e aplombe tali da non destare sospetti al tassista, ignaro ed estraneo ai reati. I carabinieri sono risaliti ai tre dopo aver individuato il taxi e ricostruito il percorso. Due dei malviventi sono stati poi arrestati in flagranza a Casalecchio di Reno per una rapina perpetrata con le stesse modalità. Nei colpi minacciavano gli impiegati con un taglierino.